Un uomo di 49 anni di Fano, residente a Mondolfo, ha tentato di togliersi la vita, gettandosi volontariamente dal tetto del centro commerciale Il Maestrale, zona Cesano-Senigallia. L'episodio si è verificato questa mattina intorno alle 7.45, quando il centro commerciale era ancora chiuso. L'uomo è stato soccorso e trasferito in codice rosso all'ospedale regionale a Torrette di Ancona, dove versa in gravissime condizioni. Sul posto, gli agenti del commissariato di Senigallia, che stanno ricostruendo l'accaduto. Non sono ancora chiare le cause del gesto. L'uomo soffriva da diverso tempo di depressione.